Conchiglie dal mondo e modellismo navale, un appuntamento che non poteva mancare nelle manifestazioni dell'estate di Spadafora, che rinnova così il suo legame col mare, da sempre fonte di vita del centro tirrenico. Il mare come fonte di turismo, il mare come fonte di sostentamento per le famiglie di pescatori, il mare come bene unico e prezioso. È stata inaugurata sabato scorso al castello un'interessantissima mostra organizzata dalla Proloco di Spadafora, con il contributo del Comune e il patrocino dell'assessorato ai beni culturali dell'identità siciliana, polo museale di Messina e dell'Umpli. Tra le stanze al piano terra del maniero rinascimentale, progettato dall'architetto fiorentino Camillo Camigliani, sarà possibile ammirare fino al prossimo 31 agosto la ricca varietà di conchiglie provenienti da diverse parti del mondo, curata dal signor Franco Bertino, che è anche proprietario dei preziosi reperti. All'ingresso della mostra, invece, si rimane incantati ad ammirare i modelli navali interamente realizzati a mano da diversi artisti appassionati del mare, modellini curati con dovizia di particolari e opere d'arte incise a fuoco col pirografo, autentici piccoli capolavori frutto di tanta dedizione. La parte finale della mostra è dedicata alla pittura, opere d'arte raffiguranti il mare, le sue sfumature, i suoi infiniti paesaggi, la sua bellezza senza tempo. Non potevano mancare sulle pareti del castello le foto che ritraggono immagini di duro lavoro e vita vissuta con all'opera gli esperti pescatori spadaforesi. Grazie. 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 Grazie.